Nessun passo indietro rispetto ai provvedimenti cautelari presi dal GIP nei confronti delle due maestre di caselle in pittari, Rina Lovisi e Rosa Fiscina, per cui ieri si è svolto l'interrogatorio di garanzia a Lago Negro. Ma l'intervento dei legali delle due donne ha già smosso un po' le acque. La prima ad essere sentita è stata la Lovisi agli arresti domiciliari perché ritenuta, come si legge nell'ordinanza, dalla condotta difficilmente recuperabile per il costante atteggiamento di violenza nei confronti dei bambini. La maestra ha risposto alle domande del GIP del Sorbo e del sostituto procuratore Anna Grillo, cercando di ridimensionare il proprio comportamento, definendolo non abituale ed esprimendo dispiacere per quanto avvenuto. Al di fuori dell'aula dove stava avvenendo l'interrogatorio, il fratello della maestra Lovisi avrebbe confidato al giornalista Lorenzo Peluso quanto la donna fosse provata e mortificata dalla vicenda. Perché se il suo comportamento non era consono, nessuno l'ha aiutata? E' una donna distrutta, avrebbe detto l'uomo. Intanto la richiesta avanzata dall'avvocato Patrizia Plaitano, legale della Lovisi, di sostituire la misura dei domiciliari con il divieto di avvicinamento agli alunni alla scuola, è stata rigettata dal giudice e l'avvocato ha fatto sapere che ricorrerà al riesame. Ricorso al riesame anche per la maestra Fiscina, la cui posizione è stata al centro di un vivace dibattito tra il suo difensore, l'avvocato Franco Maldonato, e il GIP del Sorbo. Maldonato avrebbe infatti eccepito la nullità dell'ordinanza di sospensione dall'insegnamento inflitta alla Fiscina perché ci sarebbe stata una violazione nella procedura. In sede di indagini preliminari, infatti, secondo quanto argomentato dal legale, l'indagato dovrebbe essere sottoposto ad interrogatorio prima di essere sospeso qualora sia titolare di un pubblico servizio. Per tale motivo l'interrogatorio di garanzia non avrebbe dovuto proprio avere luogo. In coerenza con questa tesi difensiva, la Fiscina non ha risposto alle domande dell'interrogatorio. A condividere l'eccezione sollevata è stato anche il sostituto Grillo che ha chiesto che venisse dichiarata nulla l'ordinanza di sospensione dal lavoro e si riformulasse la procedura per la misura interdittiva. Il GIP del Sorbo, dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, ha deciso invece di rigettare la richiesta dell'Avvocato Maldonato perché ha sottolineato La maestra non può ritenersi titolare di un pubblico servizio ma una professionista e dunque l'applicazione di tale norma nel suo caso non sarebbe valida. Una decisione aberrante la stigmatizzate il difensore della Fiscina. È chiaro che la mia assistita abbia una mission pubblica e non faccia esercizio di una professione. Faremo ricorso al riesame. Grazie a tutti.